Quest'anno è una ricorrenza importante perché poi è decadale, quindi ci teniamo a far bella figura, siamo la seconda mostra a livello italiano comunque dopo Alba, quindi siamo la più longeva dopo Alba, vogliamo incrementare un po' il livello qualitativo delle iniziative che proponiamo, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista enogastronomico. Quello che a noi ci preme, ormai sono 60 anni che portiamo avanti questo pensiero, è di far conoscere un territorio, quindi le bellezze che abbiamo a Sant'Angelo in Vado, ma anche tutte le bellezze che stanno nel territorio, quando dico territorio intendo tutta l'Alta Valle del Metauro, quindi quella che anticamente per gli storici veniva considerata la massa trabaria, il terreno delle grandi travi, dove la storia è passata dai romani che venivano a prendere queste travi per portarle a Roma fino a costruirci le grandi basiliche romane, quindi da Sant'Angelo in Vado è partita una buona parte della grande storia che conosciamo oggi nel mondo. Le tre settimane, tre weekend, saranno tre weekend all'insegna dell'enogastronomia, il primo quindi avremo un premiato importante, una delle tre stelle Michelin, una delle poche tre stelle Michelin che abbiamo in Italia, mi sembra che sono 11, quindi abbiamo l'onore di averne uno e di premiarlo. Avremo sempre nel solco dell'enogastronomia, nel secondo weekend, che è quello dedicato ai motori, un altro personaggio importantissimo nel mondo del turismo, diciamo così perché poi ha un po' deviato le sue attività, per oggi è Bruno Barbieri, un grandissimo intrattenitore televisivo che comunque veicola il come fare turismo in Italia e nel mondo, e poi l'ultimo avremo un weekend dedicato all'imprenditoria a 360 gradi. Tante mostre d'arte, troveranno quindi vari palazzi storici che vengono aperti solo e esclusivamente per questa occasione, e quindi anche delle cantine monumentali dove sarà possibile degustare su cantine del 400, troveranno una Domus del Mito che è una casa romana del primo secolo d'Op. Cristo che ha 800 metri quadrati di mosaici bicromi e policromi ed è uno dei ritrovamenti archeologici più importanti d'Italia degli ultimi 50 anni. E si gusteranno la voglia di perdersi nei vicoli per poi trovare delle piazzette dove ci sono comunque spettacoli, eventi, talk show, venite, venite e poi vedrete, poi deve essere anche una sorpresa, non possiamo dire tutto.